Dal 2013, per effetto del pacchetto lavoro, che l'Istituto del Lavoro Accessorio ha subito un processo di totale liberalizzazione. Il legislatore ha eliminato quelli che erano i limiti di carattere soggettivo, vale a dire uno strumento utilizzato per favorire l'emersione dal nero di attività svolte da giovani, casalinghe, pensionate, per essere completamente liberalizzato e quindi esteso a tutti i settori produttivi, compreso il pubblico impiego e a tutte le attività. Quindi l'unico modo, l'unico parametro cui far ricorso per qualificare un lavoro come accessore rappresentato dal rispetto dei limiti economici previsti dal legislatore, che sono quello di 2 mila Euro per ogni singolo committente e quello di 7 mila Euro per la totalità dei committenti, questo nell'arco dell'anno solare. Di fatto si tratta di un mosso giuridico perché non rappresenta e non costituisce né un rapporto di lavoro subordinato né un rapporto di lavoro autonomo. Sembra che la qualificazione del lavoro come accessorio sia demandata al mero rispetto dei parametri economici di cui parlavamo.